Quelle che vi stiamo mostrando sono immagini che risalgono allo scorso febbraio, quando all'esterno di una nota discoteca nel centro di Monopoli, nel Barese, furono fermati dai carabinieri per un controllo cinque ragazzi. Uno però, alla vista dei militari per evitare il controllo, era fuggito a piedi. Era nato così un inseguimento per le vie della città, fino a quando il giovane aveva estratto dai pantaloni una pistola, continuando a correre con l'arma impugnata. All'altezza del molo, adiacente alla strada della città, si era sbarazzato dell'arma, gettandole in mare e facendo poi perdere le proprie tracce. Si tratta di un 28enne di Bari, arrestato nelle scorse ore perché ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione. L'arma fu immediatamente recuperata nel punto in cui era stata vista andare a fondo. Si trattava di una pistola semi-automatica con matricola brasa e completa di caricatore con all'interno sei proiettili, sottoposta poi a sequestro dei militari. La successiva attività di indagine, portata avanti con l'acquisizione delle immagini della videosorveglianza all'interno e all'esterno della discoteca, oltre a quelle dei vari esercizi commerciali, ha consentito di ricostruire il tragitto percorso dal ragazzo armato in fuga e di risalire alla sua identità. Con l'analisi delle immagini, infatti, è stato possibile estrapolare un fotogramma ritrente il volto, permettendo così ai carabinieri di individuare il 28enne, già aggravato da numerosi precedenti di polizia, che da ultimo era stato già tratto in arresto per i reati di tentato omicidio con l'aggravante mafiosa e detenzione illegale di arma.